Il nostro massimo appoggio a questa iniziativa che riteniamo sacrosanta deve esserci una risposta nel tempo più celere possibile. Noi sappiamo che il risoporso pubblico alla regione costa circa 2 milioni di euro, con una privatizzazione si può arrivare ad un costo che va fino a 5 volte sopra questa cifra. È una cosa indegna e incomprensibile oltretutto. Questo esposto ha un grande valore perché può mettere finalmente la parola fine ad un processo veramente gravissimo e spiegabile. Oltretutto c'è da dire che viene inficiata la professionalità dei vigili del fuoco con questo servizio privatizzato. Perché con il servizio pubblico c'è una possibilità di interfaccia tra il vigile del fuoco che vola, il vigile del fuoco dell'elisoccorso e il vigile del fuoco di terra. Così come è stato ad esempio nel percorso del ponte Morandi e questo nello non possiamo dimenticare. Così come è previsto dall'elisoccorso una sinergia di tante professionalità tutte insieme, sanitarie e di soccorso. Questo è un patrimonio pubblico che non possiamo perdere né disperdere. È un servizio primario e tutti i servizi primari devono rimanere interamente pubblici. Quindi massima adesione a questa nobile iniziativa e anche all'appello che ha fatto l'avvocato Rino Tortorelli di essere presenti alla manifestazione dell'undici. Questo è un momento dove tutti quanti dobbiamo essere uniti e io sono veramente dispiaciuta di non vedere tanti esponenti politici di tante altre forze politiche, specialmente quelle di maggioranza. E bisogna far arrivare chiaro questo messaggio, quindi vi ringrazio per questa iniziativa. Grazie.